bella regà qui c'è sta rudem si direttamente dalla flagnomafia allora vi devo dire una cosa importantissima ci vediamo tutti quanti venerdì 27 giugno al rena nera beach tor annunziata a napoli mi raccomando regà e ci dovete sta tutti quanti faremo il panico spaccheremo tutto si ci siamo noi i flagnomafia dal vivo rudem si g max e dc kokob mi raccomando regà vi aspettiamo in tanti da yeh alla grande che idea quale idea non vedi che lei non ci sta che idea ma quale idea è maliziosa ma saprà tenere a bada un super fullo buffo come te e poi che avresti di speciale che in una clonda non c'è